Ciao a tutti amici e amiche di Andrew's Channel, bentornati al secondo episodio del dedicato Imperator Rome con la Macedonia. Dopo l'episodio 0 in cui vi ho mostrato le novità e le meccaniche di questo nuovo titolo Paradox e l'episodio 1 in cui abbiamo iniziato ad impostare la struttura del nostro regno, in questo episodio inizia lo scontro. Macedonia ed Epiro entrano in conflitto, in particolare per la regione dell'Epiro. La prima cosa che faccio, io salgo con 21.000 uomini e cerco di andare a Nicopolis che è, se non erro, una città con un forte. Sì, decisamente, e dovrebbe essere anche la capitale dell'Epiro. Mentre i nostri 6.000 uomini capitanati da Leostenes Helenid si buttano a Stratos in Etolia e cercano di saccheggiare, di prendere con un assedio la città. Togliamo la pausa. I nostri 21.000 uomini del primo Stratos Marchion è un esercito molto grande, è un esercito abbastanza forte in termini di numero e di composizione. Abbiamo 21.000 mercenari, mi stavo per spaventare. Voglio fare una divisione di questo esercito, quindi il nostro Cassandro va ad assediare la capitale, mentre qui abbiamo la seconda Stratos, va assegnata ad un nuovo generale. Alexander Antipadre è Antipatrid, è un pretendente, non voglio assolutamente assegnarlo. Aristonichis è un ottimo generale. Commander loyalty gain chance meno 0, 0, 2. Marshall più 1, vai. Assegniamo lui. Che ha una buona lealtà e è un buon generale. Aristonichis sarà colui che guida la seconda parte del primo esercito che adesso abbiamo lasciato nelle retrovie, perché lo tengo soltanto per supporto. Non voglio che i miei uomini muoiono di logoramento. Ecco perché divido le mie forze. Perfetto. Abbiamo due assedi in corso, mentre Pirro, il re delle Pirro, sta attaccando a nord la città di Dimalion, in Illyria. E quindi suppongo che sia impegnato. Abbiamo anche una flotta che adesso voglio portare di fronte al porto di Nicopolis. Prendiamo le nostre Tiremi. La prima guerra del nostro regno macedone. Cosa vogliono i cartaginesi? Vogliono esportare delle pellicce. No, non lo voglio, delle pelli. Signori, il Basileus è weak-willed, debole nella forza di volontà. Questo abbassa la prominence e come governatore anche i forti hanno un malus. È un vero peccato avere questo tratto. Purtroppo non ci possiamo fare niente. Oh, bello questo evento. I giochi olimpici. Oh, iniziano i giochi nella città di Olimpia. Bellissimo. Possiamo fare diverse scelte. Mandare Theodos. Mandare Hiperbatas. Nessuno dei due. Abbiamo due ricercatori. Allora andiamo a vedere. Theodos 757. Quanti anni ha? 25 anni e questo 23. Hiperbatas è sicuramente più ricco e più popolare. Mando il Ghiripide. Hiperbatas, vai. Questo significa che adesso ci manca un ricercatore che migliori l'oratoria e possiamo mettere Olimpide. Con 7. Sì, penso che non ci siano problemi in termini di, come si può dire, di lealtà in questo senso perché stiamo parlando di ricercatori. Gli assedi procedono. Nella capitale dell'Epiro siamo al 21%, manca l'acqua. Mi fa piacere. Vedere che procedono bene. Potrei ovviamente fare degli sbarchi, ma non voglio creare questa situazione logistica difficile per il mio esercito. Invece tengo 10.000 uomini nelle retrovie. Solo in caso di battaglia li porterò a supportare l'una o l'altra a sedio, mentre invece gli altri uomini procedono. Gli assedi stanno andando molto bene e sembra che Pirro, impegnato a nord, sia incapace di difendersi. Abbiamo attaccato in un momento molto profizio e questo è sicuramente buono. Questo è anche uno dei motivi per cui non mi sono impensierito quando ho visto che i tracci non sarebbero entrati in guerra. Possiamo farlo da soli. Saccheggio di Gnocopolis. Ragazzi, Cassandro ha vinto Anicopolis, ha conquistato la città e possiamo prendere delle decisioni adesso. Possiamo essere gentili, tra virgolette, cioè saccheggiare senza creare devastazione. Il Basileus guadagnerà popolarità e 46 Ducati. Lasciamo che i nostri uomini siano liberi di fare quello che vogliono. Guardiamo popolarità, più Ducati e il Keletrons diventa più leale a Cassandro. Quindi praticamente 11.000 uomini che si legheranno di più al nostro leader Cassandro. Ma due cittadini, un cittadino scusate, un pop in Icopolis muore. Cittadini dell'Epiro. Oppure possiamo diventare crudeli, lasciare che l'esercito veramente passi tutti a filo di spada e uccidere dei Freeman. No, penso che darò la possibilità ai miei uomini di saccheggiare senza però essere troppo crudeli. Quindi abbiamo catturato come schiavo un pop, un pop è morto e abbiamo guadagnato più popolarità. Benissimo. Toccato da Hermes, antipatrito, ok. Siamo sempre noi Cassandro. E Limia ha visto un grande influsso di commercianti e di navigatori recentemente, ok. Possiamo ispirarci degli dei e guadagnare 82 Ducati. E Limia guadagna Commerce Influx che aumenta del 20% le tasse. Oppure ringraziare Hermes. Perdere Ducati. Guadagnare la Religious Power. E i macedoni guadagnano la benedizione del commercio per 10 anni. Tasse più 5. Duration of Omen più 10. Assolutamente. Utilizziamo questi introiti del commercio per un grande festival in onore del dio del commercio. Mercurio. Hermes in greco. E questo ci darà per 10 anni dei vantaggi su tutta la Macedonia. Benissimo. Ora, pausa. Avendo preso questa città, io suggerirei ora di liberare i nostri uomini che andando a nord dovranno cercare di occuparvi il possibile. Ok, non abbiamo vinto i giochi olimpici purtroppo, ma abbiamo guadagnato popolarità perché abbiamo mandato qualcuno a giocarli. Vedete questi 26.000 in nero? Sono dei mercenari. Non sono preoccupanti per il momento. Quello che invece è preoccupante è vedere che dall'Illiria scendono, diciamo così, altri nemici di Pirro che ne strappano il territorio e quindi tolgono a noi la possibilità di guadagnare, di fare gain. Intanto a sud, ragazzi, 42% per Stratos. Direi che ci siamo quasi. Sbarchiamo la seconda Stratos di Aristonikos sull'isola di Leucas. Perché penso che sia il caso. Pausa. Abbiamo moltissime cose da fare. Manca un comandante, non è un problema. Una famiglia offesa, stiamo parlando di quali? Ghilipid. È certo, perché per Bartas è tornato dalle Olimpiadi e adesso non ha più niente da fare. Ti terrò in considerazione, amico mio, ma per il momento la tua famiglia è talmente mediocre che... Pretender Support. Balacros. Ok. Supporta Antipatro. Ok. Vediamo di chiedere il supporto delle nostre rede. E abbiamo un'invenzione da fare. Facciamo un'invenzione a questo punto di tipo civico. Fabricate Claim Cost nel 10%. Ci sarebbe servito prima o lo prendiamo adesso? Dai, togliamo la pausa. A Stratos abbiamo vinto, benissimo. Adesso scendiamo... Ok, stop. Con 5.000 uomini anche nella città di Tireion. Stiamo andando a Benone. Per adesso nessuna battaglia campale, perché molto probabilmente i nostri nemici sono impegnati a nord, in Illyria. Aspettate, questi... Questi sono nemici, dove stanno marciando? Ok, sembra che presto avremo uno scontro. 6.000 uomini contro 14.000, non è assolutamente positivo. Voglio cambiare... Ormai è troppo tardi, stiamo sbarcando. 10.000 uomini. E sono bloccati. Wow! Qui rischiamo di perdere in campo aperto, tuttavia vediamo allora lo scontro. La velocità non sembra cambiare, rimane a 2. È uno scontro davvero duro, perché siamo in forte inferiorità numerica e non credo di essere in grado di arrivare per tempo. Vediamo se riescono a resistere i miei uomini. Potremmo chiedere un cambio di strategia, lo dovevo fare prima, un bottleneck. Purtroppo non siamo stati in grado e ora ne paghiamo le conseguenze. Siamo stati sconfitti. E verremo sconfitti nuovamente, perché adesso attaccheremo. Ok, questa divisione dell'esercito non ho considerato che da sud avrei avuto questa situazione. Dobbiamo rinforzarci e poi attaccare nuovamente. A questo punto suggerisco di portare tutti gli uomini possibili, consolidarli e poi sferare un attacco finale a Stratos, dove adesso i nostri nemici cercano di riprendere il controllo della loro vecchia capitale. E' un peccato vedere degli sconfitti in questo modo, ma stiamo apprendendo appunto anche così. Starving Pop, vediamo. A Lichidos c'è gente che è affamata perché a Lichidos abbiamo l'Epiro che sta saccheggiando. Ok, ora inizio a vedere il nemico che è uscito dalla propria Tana. Ok, uniamo gli uomini e portiamoli pronti ad attaccare nuovamente. E anche, guardate, altri assedi. E' positivo che questi stanno attaccando in modo separato? Ma ora, attenzione perché forse riusciamo ad avere... Ok, attenzione, i Freemian di Doberos possono spostarsi a Tauriano oppure possiamo andarle indietro. Aumentiamo l'Unrest ma lasciamo che alcuni Pop si spostino da una città all'altra. Ok, voglio vedere i mercenari. Quanto mi costerebbe acquistare mercenari? Alcuni sono molto lontani. Non penso che questo abbia senso. A questo punto penso che andrò a reclutare qualche unità in più direttamente nel territorio. E qui ci scontriamo in superiorità numerica. Vediamo se il nostro nemico molla l'assedio per attaccarci. Quando avremo preso anche l'isola di Leucas, poi avremo noi la superiorità numerica totale. Il territorio della battaglia di Thermos non è dalla nostra parte ma sembra che il nostro numero sia buono. Abbiamo vinto a Thermos. Benissimo. Ora, ritorniamo in patria. Uniamo le nuove 5.000 unità di fanteria pesante. E sferiamo l'attacco a Stratos. Dove il nemico molto probabilmente ritornerà ad essere padrone della propria città. A Thermos ora abbiamo perso. Ah no, abbiamo catturato un nemico. Aristonikis... Molto bene. Molto bene. Abbiamo catturato un nemico. Questo è positivo. Forza. Un occhio per l'estetica. Possiamo guadagnare lealtà e un training camp oppure guadagnare 80 Ducati. No, va bene. Facciamo un training camp che va benissimo. Ok, abbiamo perso un assedio. Questo lo avevamo preventivato. Adesso vediamo dove si muovono questi nemici. Ora la falange ha un 75% di efficacia. Se questi vanno a nord ad attaccare in Illyria, io sono contento. Ma invece pare che vogliano... ...prendere il controllo dei loro territori. E adesso noi con 20.000 uomini non possiamo fare nulla. E allora saliamo. E andiamo... No. Allora facciamo una cosa. Dividiamo. Facciamo l'assedio come abbiamo fatto all'inizio. Riprendiamo il controllo di Stratos. E abbiamo vinto a Leucas. Benissimo. Quasi un anno è durato l'assedio, ma... Ora possiamo prendere il controllo di nuovo il territorio. Benissimo. La città di Stratos quanti uomini ha a difendere? Soltanto 300. Io potrei ordinare un assalto. Lo faccio perché sono pochi. E... Looting Gentle. Adesso. Tutti insieme appassionatamente. Attacchiamo questi 13.000 nemici. Con 20.000 uomini. Benissimo. Molto bene, molto bene. Questa è la battaglia che tutti aspettavamo. Sarà una battaglia pesante. Molti uomini sul campo. 30.000 da noi. 14.000 da loro. La battaglia di Nicopolis probabilmente determinerà l'esito di questo conflitto. E vinciamo. E ora possiamo veramente risalire e attaccare il nemico a nord. Misure standardizzate. Nation Commerce più 5. Siamo al 73% di vittoria. Quindi ci stiamo veramente avvicinando alla fine di questo conflitto. Ma tuttavia ci sono ancora uomini in armi che non hanno ancora deposte. Sono a nord e di conseguenza noi non possiamo farci niente. Dobbiamo sconfiggerli e poi soltanto allora chiedere la pace. Anche se la città di Patrasso è libera quindi vedo che si stanno rimettendo in sesto. Allora il primo stratus adesso va sotto il nostro sovrano con 30.000 uomini. Assolutamente sgravo. 15.000 falangi macedoni pesanti. Una strategia che è al 48% perché abbiamo anche moltissima cavalleria e arcieri. E' un esercito composto male per... Guardate stanno saccheggiando e schiavizzando la nostra popolazione. Quindi dobbiamo bloccarli immediatamente. E ci stanno assediando Pella. Non dobbiamo avere pietà di questi. Attenzione, no, fermi, fermi. Qui voglio una divisione. Cassandro andrà verso Pella. Leostenes riprende l'esercito e invece va verso la città di Arnisa. Cerchiamo di bloccare il nemico tra due valli per poi schiacciarlo in modo che non abbia nessuna possibilità di fuggire. Intanto voglio controllare che i miei possedimenti vengano mantenuti. Ok, ok. Sembra... Stop. Sembra che ci sia possibilità di attaccare in Beroia. Assolutamente sì. L'abbiamo intrappolato. Ora, la battaglia di Beroia sarà una disfatta per loro. Totale disfatta. Siamo all'85%. Ok, stop. Riprendiamo il nostro territorio. Rapidamente. Voglio vedere se in condizione di pace mi viene assegnato qualcosa. Allora, la prima idea era quella di prendere le toglie, giusto? Ed Epiro. E anche l'Epirotepirus a noi. Sì. Ci viene accettato. Vediamo se possiamo chiedere anche molto denaro. 70. Accettato. Penso di poter chiudere qui la guerra. Ehm... 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 E amici, adesso abbiamo terminato la guerra contro l'Epiro per una porzione di Etoglio. Guardate il regno macedone e quanto si è espanso. Adesso abbiamo veramente una bella porzione di Grecia del nord. Bisogna fare attenzione perché adesso arriveranno i problemi di delta e di integrazione. Cioè, fatta la macedonia, dobbiamo fare i macedoni. L'elite Epirota. Allora, dopo la conquista possiamo decidere che cosa fare dei nobili dell'Epiro. Possiamo ucciderli. Ehm... Bandirli. Abbiamo 8 di Aggressive Expansion. Se li bandiamo, perdiamo 0,5. Ok? In prigione leader, il resto farò sparire. Facciamo un Banish. E anche qui un Banish con l'altra famiglia di Akarnian. Vai! Ok, molto bene. Ehm... Penso di... Adesso farò una riforma dell'esercito perché non posso mantenere un esercito così... così grande. Riportiamo al porto di Amphipolis, la nostra flotta. E nel prossimo episodio facciamo le riforme per integrare gli Epiroti nell'impero macedone. Vediamo se abbiamo dei problemi di cultura, decisamente. Non penso che abbiamo dei problemi religiosi, però. Questo mi fa piacere. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di mettere un pollice in su. E vi do appuntamento al prossimo episodio.